Appena detto il mister che con questo nuovo sistema di gioco le mezzali sono un po' sacrificate. Il principale indiziato ti senti un po' sacrificato o prevale la contettezza per un risultato che mi premia? No, assolutamente. Siamo veramente contenti stasera di questa vittoria. È stata la vittoria del gruppo perché sapevamo di affrontare una partita difficilissima ma per noi è determinante. Abbiamo avuto la forza di fare una grandissima prestazione contro una grande squadra che veniva da diversi risultati utili consecutivi. Quindi questa vittoria ci rende veramente felici e orgogliosi perché poi è venuta in casa davanti al nostro pubblico, davanti alla nostra gente. Alla fine siamo andati tutti sotto i nostri tifosi a gioire. È stata un'emozione importante perché ci tenevamo veramente tanto a vincere questa gara. Senti Filippo, al di là dell'aspetto così tattico, però forse a questo tempo è mancata a volte un po' di continuità, anche in casa a volte. Quanto fa piacere aver trovato la vittoria di Bologna e poi anche la vittoria di oggi che visto il risultato forse non rende neanche troppa giustizia all'Empoli perché è ancora più netta rispetto a quella col Bologna, finita con un gol di scarto in meno. Però quanto siete consapevoli, quanto siete appunto contenti di questo? Siamo molto molto contenti perché oggi oltre al risultato c'è stata una grandissima prestazione. Abbiamo creato tante situazioni offensive e subito secondo me veramente poco. Ripeto, dopo la partita di Bologna ci siamo detti che questa sarebbe stata la nostra serata. Ci credevamo veramente tanto e l'abbiamo dimostrato in campo. Vincere in Serie A non è mai facile. Non ci scordiamo che ogni partita, ogni punto portato a casa è frutto di un lavoro dietro importante da parte di tutti. Quindi veramente c'è tanta tanta gioia stasera perché è stato un risultato e una prestazione veramente bella. Ciao Filippo, al di là della vittoria di oggi ti chiedo com'è essere capitano di questo gruppo, anche appunto pensando naturalmente alle partite addietro. Ma essere capitano per me durante tutto l'anno è stato un orgoglio perché dal primo giorno che ci siamo riuniti a luglio abbiamo sempre detto che la nostra forza doveva essere il gruppo perché senza di quello in Serie A è veramente difficile portare a casa punti e poter battagliare contro ogni squadra. È sempre stata la nostra forza, io ci ho sempre creduto dal primo giorno perché tutti i ragazzi nuovi che sono arrivati quest'anno si sono messi subito a disposizione e si è creata veramente la giusta empatia tra di noi, il giusto modo con il giusto entusiasmo di lavorare in settimana e quello fa la differenza perché anche nei momenti difficili, come tutte le squadre che lottano per la salvezza anche noi li abbiamo avuti, però conta sempre poi come una squadra riesce a reagire. Noi dopo Sassuolo è stata una serata complicata perché avevamo fatto una grandissima prestazione, eravamo arrivati a tanto da portare a casa un buon risultato e da lì abbiamo messo ancora più determinazione in campo e queste due partite che abbiamo fatto in casa sicuramente si è visto e è stata da capitano una doppia soddisfazione. Filippo senti, il mister ha detto che quando siete stati in ritiro non vi siete recompattati perché non vi siete mai persi, come dicevi giustamente te però avete scavato dentro voi stessi, ecco te come l'hai vissuta, in che senso avete scavato dentro voi stessi? Bene, sai, quando perdi una partita in quel modo a Sassuolo dopo una prestazione secondo me ottima perché per larghi tratti della partita eravamo in pieno controllo. Purtroppo alla fine ci sono stati episodi per noi negativi e quando lotti per la salvezza e perdi partite del genere le strade possono essere due, lotti dei primi e trovi alibi ovunque oppure fai come ha fatto questa squadra dove ognuno ha cercato di dare positività al compagno, non trovare alibi inutili e questo ha fatto la differenza perché poi quando vai in campo e sai che puoi contare sulla forza del compagno sia chi gioca che chi entra è bello perché vivi il gruppo in maniera ottimale con entusiasmo quindi ripeto, secondo me abbiamo fatto anche un lavoro mentale importante ci siamo dimenticati subito della partita di Sassuolo ovviamente l'abbiamo analizzata con il mister però lui in primis ci ha dato grande fiducia e grande entusiasmo quindi la squadra ha reagito benissimo e queste due vittorie in casa sono molto molto belle grazie